Quella che si è chiusa è stata una sessione di mercato deludente che ha visto l'Avellino colpevolmente assente a Milano persino dal punto di vista fisico. Salvatore Risomma, che era la notte precedente rientrato da un viaggio solitario in macchina fino a Vibo, Valencia, per amore del lupo, nell'apprendere che nessuna fideuzione sarebbe stata fatta, ha giustamente preferito restarsene a casa. Vedere che nel box dell'Avellino non c'era nessuno però ha inevitabilmente provocato un danno incredibile all'immagine di un creb che lo scorso giugno aveva lanciato segnali di solidità e credibilità, dandosi persino alla pazza gioia nelle acque di Capri. Da allora sembra essere passato un secolo, tutta colpa della tempesta giudiziaria che ha colpito l'azienda, ma anche della manifesta incapacità dimostrata in sede di calciomercato da una dirigenza che continua a difettare sul piano della comunicazione, della chiarezza e della tempestività. Rincorrere una fideuzione da 200.000 euro nelle condizioni in cui oggi grava la Sidigas corrisponde un po' a come sperare che sull'esquilinio di Roma si ripeta il miracolo della neve nella notte del 5 agosto. Ecco perché sarebbe stato meglio farsi subito i conti e bloccare una cifra minima a garanzia in lega per tesserare i calciatori necessari. De Marco, Iglianes, Karic e l'ultimo arrivato, Charpentier, che restano tuttora congelati, saranno inevitabilmente arruolati entro venerdì con questa procedura. Pena la decadenza del tesseramento e un punto di penalizzazione. In perfetto stile Sidigas, lo stesso che dopo due mesi di peripezie ha ridotto a chi di dovere ad andare in banca all'ultimo secondo per tentare il salvataggio della scandone, ci farà probabilmente restare col fiato sospeso fino a venerdì per un'operazione che, pure avendo il carattere della straordinaria età, andava pianificata molto ma molto prima. Probabilmente non sapremo mai se questo ritardo, che è coinciso con la chiusura del mercato, sia ascrivibile alla struttura commissariale o dirigenziale. Ciò che sappiamo è che, di somma, non ha avuto la possibilità di completare il suo lavoro. Essendo Charpentier proveniente da Federazione Estera, infatti, Lavellino ha chiuso il mercato, pensate, con soli cinque prestiti da A e B. Il sesto poteva essere scelto tra Nicola Serizzo, difensore del Genoa, o Gabriele Gori, attaccante della Sampdoria, come da noi ripetuto fino alla noia. Per entrambi era cosa fatta. Non a caso il primo è andato alla fine alla Carrarese e il secondo all'Arezzo, società non certo più blasonate dell'Avellino. Un vero peccato, anche perché per portare uno dei due in Irpinia sarebbe bastato avviare una colletta per raccogliere circa 25.000 euro o tenere i botteghini magari aperti per consentire, la scorsa settimana, ad altri tifosi di abbonarsi. A bassa voce e senza sbattere i pugni sul tavolo, lo facciamo notare ai commissari, ai dirigenti o a chi da Napoli detiene ancora la proprietà di questo bene comune chiamato Avellino. Un bene che si può pure gestire in emergenza, ma senza mai far venire meno il rispetto verso i tifosi che al momento lo stanno tenendo in vita con i soldi portati al botteghino.